Ciao a tutti cari amici della Sporting in Milano 3, come potete ben vedere siamo con il nostro Fabio Bonora in vista della partita di questa sera ad Esio, la seconda amichevole, si ritorna subito in campo dopo aver vinto ed archiviato il match contro Nerviano nella Sporting in Milano 3 Cup Fabio che cosa ti aspetti del match di questa sera? Allora, sicuramente è un test importante, sappiamo che sono una delle ipotetiche teste di serie dell'altro girone quindi è sicuramente un test importante, primo fuori casa, cercheremo di dimostrare l'ottimo lavoro che stiamo facendo in alleamento Senti, rispetto alla partita di domenica ti aspetti che magari sotto qualche aspetto la squadra migliori oppure c'è ancora tanto da lavorare? Allora, sicuramente bisogna ancora lavorare, è quello che stiamo facendo in allenamento ci aspettiamo tutti di fare sinceramente meglio in entrambi i lati del campo soprattutto magari in attacco essere un po' più fluidi ma è sicuramente qualcosa che verrà col tempo senza problemi stiamo iniziando ad avere la giusta chimica qui, abbiamo fiducia Ti chiedo l'ultimissima cosa, che impressione ti hanno fatto queste prime settimane di lavoro, di preparazione? Un'ottima impressione, sinceramente penso che siamo più forti dell'anno scorso quindi ovviamente le aspettative sono più alte per quanto riguarda personalmente sicuramente non vedo l'ora di iniziare perché se ci sono aspettative più alte bisogna lavorare di più ed è alla fine il bello del gioco, quindi ci aspettiamo delle belle cose Ringraziamo il nostro Fabio Bonora e in vista della partita di questa sera se volete seguirci potete farlo tramite le nostre Instagram Stories perché vi aggiorneremo con il punteggio quarto dopo quarto per rimanere aggiornati per quanto riguarda la seconda amichevole dei nostri ragazzi contro l'Aurora Desio A presto! Ciao a tutti! Ciao a tutti!